Buongiorno, buongiorno e benvenuti all'appuntamento di oggi, lunedì 12 marzo, con il calabrone del mattino staremo insieme sino alle 11, lo faremo dal lunedì al sabato come tutte le settimane, siamo già a metà mese di marzo, ma come vola? Come vola il tempo? Ma siamo anche ad inizio settimana, quindi insomma capisco che lunedì è lunedì per tutti, e lo so, lo so, lo so. Poi con questi sbalzi di temperatura è praticamente impossibile riuscire a mantenere anche una salute proprio irreprensibile, sarà un mese che il mio raffreddore va e viene in maniera proprio costante, sembra finito invece il giorno dopo ritorna, e va, ecco, ieri se considerate c'erano 30 gradi dalle nostre parti, quindi è anche logico che questo può accadere. Buongiorno, buongiorno ancora a tutti, allora oggi è lunedì quindi si parlerà tantissimo di sport, sono successe tante cose in questo fine settimana, sia per quanto riguarda il calcio che il basket, a proposito di basket facciamo un inchino, facciamo un applauso, facciamo un applauso, ci sono gli applausi qui? Facciamo un applauso alla Irritech Costa d'Orlando che ha conquistato praticamente la salvezza senza passare dai play out, voi dite, ah ma la matematica? Sì, ho capito la matematica, però effettivamente 10 punti di vantaggio a 5 giornate dalla fine, sulla ultima posizione possibile per evitare i play out, penso che se non c'è la certezza matematica, quasi, insomma, diciamo sì, dai. Complimenti anche perché bisogna ammettere una cosa, adesso ve lo dico con estrema sincerità e chiarezza, non è che la Costa d'Orlando si ritrova in questa posizione, attualmente addirittura è ottava, farebbe anche i play out se il campionato dovesse concludersi oggi. Dicevo, non è che lo ha fatto perché ha speso tantissimi soldi, perché ha creato un roster di quelli proprio per la prima esperienza in Serie B, no, anzi, al contrario, se guardiamo i budget di tutte le formazioni che partecipano quest'anno al campionato di Serie B, ce ne sono veramente pochissime che hanno speso probabilmente meno della Costa d'Orlando, ma veramente poche nel senso una, forse due, che occupano peraltro le ultime due posizioni in classifica. Quindi bisogna ammettere che questo è frutto, prima di tutto, di un'organizzazione societaria che nonostante si trovi per la prima volta a dover affrontare un campionato di Serie B, ha dimostrato una precisione, una compattezza, un'organizzazione veramente invidiabile. E questo anche perché dopo 4-5 anni di minors, praticamente di esperienza nelle categorie inferiori, si è cercato sempre di crescere, soprattutto da quel punto di vista, cioè dall'aspetto societario, organizzativo. E quindi questo è servito tanto. E poi bisogna riconoscere anche che la guida tecnica di questa squadra, che poi anche nella funzione del direttore sportivo, è sicuramente qualcosa in più rispetto alle altre formazioni che la Costa d'Orlando può vantare, perché l'esperienza di Peppe Condello lo ha dimostrato tante volte, ogni volta è stato chiamato a dirigere una squadra, a prescindere dalla sua carriera da giocatore, però da allenatore ha sempre dimostrato di ottenere buoni risultati, lo ha fatto anche quest'anno. E possiamo dire con assoluta certezza che proprio per questi motivi, cioè il budget speso, la squadra formata e tutto il resto, la Costa d'Orlando Basque è decisamente la squadra rivelazione di questo campionato di Serie B. Anzi, addetta anche degli addetti ai lavori di questo campionato, nessuno si sarebbe mai aspettato un risultato del genere. A cinque giornate dalla fine del campionato, la Costa d'Orlando è già virtualmente salva, senza passare dai play-out. Insomma, è ottava in classifica. Adesso, insomma, sognare i play-off è legittimo, ci mancherebbe altro, è difficile, perché adesso, da questo momento in poi, la Costa è chiamata ad una serie di partite veramente difficili, però si gioca, poi a Palacaneso si gioca sempre cinque contro cinque, per chiudere poi il campionato contro Catanzaro fuori casa. Quindi, diciamo che i play-off sono legittimi come sogno e difficili da raggiungere, ma l'obiettivo è stato superato addirittura con cinque giornate di anticipo, cioè quello di conquistare la salvezza senza passare dai play-out. Bravi, 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 bravi. Oh, e diciamo, diciamo, quando ci vuole ci vuole, come si suol dire in questi casi, meno bravi sicuramente per quanto riguarda l'Orlandina Basket, che ieri il big match salvezza se l'è giocato proprio in un ultimo quarto inguardabile, è stata in vantaggio di 14-17 punti, sembrava, insomma, avere l'inerzia della gara, anche perché bisogna ammetterlo, è inutile poi nascondersi dietro un dito, gli avversari erano veramente poca roba, però c'è stato qualcosa in più che hanno messo alla fine, che era l'ultima spiaggia per loro, era l'ultima possibilità per poter sperare ancora nella salvezza, cosa che probabilmente è mancata alla squadra di Capodorlando, che ha perso lo scontro salvezza, mantenendo comunque a favore la differenza Canestri, ma adesso occupando l'ultima posizione insieme a Pesaro, che ha raggiunto proprio la Betalan Capodorlando. È la quindicesima sconfitta consecutiva tra Coppa e Campionato, è la, se non mi sbaglio, la decima in Campionato. La situazione è veramente preoccupante adesso, perché non solo si è stata raggiunta da Pesaro all'ultimo posto in classifica, ma soprattutto la Betalan ha rimesso in gioco Pesaro, perché adesso, nonostante, sinceramente lo dico, una squadra formata male, come quella di Pesaro, che veramente non mi sembra potesse competere per una salvezza in questo campionato, invece adesso si sente nel diritto di poter sperare, di poter sognare. Oltretutto ha avuto la consapevolezza, e manca questo all'Orlandina probabilmente in questo momento, di poter anche vincere le partite. Dopo la bella prestazione comunque di Torino, dove la Betalan ha dimostrato di poter giocarsela contro tutti, all'ultimo secondo ha perso a Torino. Ieri, insomma, qualcosa è mancato, ci sono stati dei giocatori che non hanno reso sicuramente per quello che ci si sperava, tra tutti, naturalmente, Eric Maynard, ma anche altri. Ne parleremo questo pomeriggio, dalle 15 alle 16 a Sesto Uomo, con ospiti in studio. Dovremmo collegarci telefonicamente con Gennaro Di Carlo, che è, diciamo, l'uomo del momento in negativo. Tutti ne parlano in questo momento, sui social sta succedendo veramente di tutto. Su Gennaro Di Carlo dovremmo riuscirlo ad avere al telefono, perché sono in viaggio per rientrare qua a Capodorlando. Insomma, tra poco ne riparleremo ancora di calcio e di basket, e intanto ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo. Questo è il calabrone del mattino, staremo insieme fino alle 11. Oggi è lunedì, grande giornata di sport, parleremo tanto di sport. Vi ricordo ancora l'appuntamento di oggi pomeriggio alle 15, con Sesto Uomo parleremo di basket, ma intanto leggiamo la prima pagina della Gazzetta dello Sport, che titola, anche la Gazzetta dello Sport si distingue sempre per i suoi titoli, leggermente filo nero-azzurro, ma giusto un attimo, proprio perché titola La Juve sorpassa, e questa è la notizia sicuramente del giorno, visto il pareggio del Napoli a Milano, no? E chi ringrazia? L'Inter! E quindi comunque è sempre merito dell'Inter, è sempre merito dell'Inter. Grazie, grazie Inter, non ce lo saremmo aspettati questo regalo, però vabbè, come se, anche se avesse vinto il Napoli, la Juve ha comunque un'altra gara da recuperare, quindi probabilmente... Però, grazie, grazie Inter, perché ha bloccato sullo 0-0 il Napoli, e quindi la Juve, con una partita in meno, è in testa con un punto di vantaggio sul Napoli. Considerate che la terza, la Roma, ha 15 punti in meno della Juve. 15, la terza, veramente, Juve e Napoli hanno fatto un campionato a parte, cioè non c'entrano niente con gli altri. Di Bala stende l'Udinese, Spalletti ferme il Napoli, 0-0. C'è la fotografia di Di Bala che festeggia dopo la doppietta, Stadium, una doppietta di Paolo, vale il primo posto, è a più uno, e mercoledì c'è il recupero con l'Atalanta. San Siro, i nero-azzurri ingabbiano Sarri, Palo di Skriniar, Spalletti ci manca qualità, ma siamo tosti. E effettivamente ieri le parole di Spalletti sono state chiare, nette. Io penso che ha detto quello che pensiamo un po' tutti, chi segue il calcio, insomma chi ama il calcio, a prescindere dalla fede calcistica. Spalletti ha detto non abbiamo qualità, perché il giornalista gli aveva chiesto allora cosa manca a questa squadra, no? Cioè magari nei momenti determinanti, la concentrazione, la... Lui, no, 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 ci manca la qualità. Basta, cioè noi di che parliamo? Ci manca la qualità. E ha portato degli esempi molto chiari che effettivamente non possono che dar ragione alle sue parole. Cioè effettivamente, insomma. Però, nonostante tutto, stanno facendo un buon campionato. Se pensate che è quinta l'Inter a 52 punti, ad un punto dalla Lazio, quindi dalla zona Champions, l'obiettivo è ancora lì, stagionale. Il commento di Alessandro De Calò, lo show della gioia, il peso di Ringhio e il mare di Sarri. Dopo averlo tampinato per mesi, la Juve mette il naso davanti alla Napoli senza aspettare di pareggiare il conto delle partite giocate. Può essere il cambio di marcia che decide lo sprint scudetto. In alto, Mago Silva, acuto di Andrea al 94esimo, Genoa a K.O., Milan vicino alla zona Champions. Gattuso si porta a meno sei dal quarto posto con il derby in meno a una partita da recuperare. Primo gol del portochese, in Serie A, continua la striscia positiva dei rossoneri. E a proposito del primo gol di Andrea Silva, c'è il rompipallone di Geneglio Gnocchi che dice balzo in avanti di Andrea Silva nella classifica Cannonieri con il gol a Genova ha raggiunto il portiere Brignoli del Benevento. E ricorderete che quest'anno ha segnato di testa. Lacrime, silenzi, brividi, nello stadio tutto viola, si gioca solo per Astori, una partita veramente surreale. Ma se poi pensate, la Fiorentina ha vinto 1-0 contro il Benevento. E comunque è stata una partita veramente surreale. Al tredicesimo minuto fermano il gioco perché Astori portava la maglia numero 13 ritirata sia dalla Fiorentina che dalla Cagliari. Ma la cosa che poi dite, vabbè, noi ci aggrappiamo a tutto, però è strano, no? Perché chi ha segnato il gol della Fiorentina che ha dato la vittoria? Quello che ha preso il posto di Astori. Cioè il difensore centrale che ha giocato il posto di Astori. A che ora ha segnato? Ma è pazzesca questa cosa. Ha segnato alle 13. Cioè loro giocavano a mezzogiorno nell'anticipo della domenica alle 13 ha segnato. E che numero porta questo giocatore che si chiama come un famosissimo scrittore Victor Hugo? Che numero porta di maglia? Il 31. Cioè il 13 al contrario. E come si chiama di nome questo Victor? Come si chiama la figlia di Astori? Vittoria. E' una cosa, eh? Pensate, cioè è veramente assurda questa cosa. Cioè tante... Noi ci aggrappiamo. Ne troveremmo un'altra. Probabilmente se ci mettiamo lì ne troviamo un'altra. Io sono molto fatalista e quindi non ci credo a questa. Però, eh? Che cosa? Se doveva salutare non poteva farlo meglio che così. Poverino Astori. Cioè, capito? Ha segnato quello con il numero 31. Ha segnato alle 13. Ha segnato chi ha preso il suo posto che si chiama Victor come la figlia di Astori. Incredibile. Incredibile. Va bene. Altri titoli per quanto riguarda la Gazzetta dello Sport in alto Tirreno Adriatico a casa Scarponi vince Adam Yates e c'è questo Tirreno Adriatico veramente con tante stelle e peraltro anche una gara molto intensa. In mobilismo un tacco gol da Scarpadoro effettivamente il gol del Lazio che ha pareggiato all'ultimo minuto ha dell'incredibile quel colpo di tacco. Andiamo invece con la prima pagina del Corriere dello Sport Stadio doppietta della gioia la Juve in testa con una gara in meno il Napoli fermato dall'Inter Re di Bala questo il titolo Lorenzo Insigne e poi c'è la foto di Insigne che ha le mani come se dovesse pregare non è riuscito a piegare l'Inter la sfida di San Silvio si è chiusa sullo 0-0 il commento di Alberto Dalla Palma il solpasso di Allegri le speranze di Sarri c'è uno scudetto in ballo tra Napoli e Juve ci sono due posti in Champions tra Roma Inter e Lazio ma occhio al Milan ci saranno una finale di Coppa Italia e ancora un paio di retrocessioni da evitare e c'è poi questo commento sulla giornata di campionato Var sotto accusa la Lazio furiosa adesso basta Inzachi duro dopo il 2-2 di Cagliari ignorato il rigore su immobile poi Genova ha battuto 0-1 ecco André Silva il Milan riparte primo gol in Serie A per il portoghese dimenticato il tonfo con l'Arsenal Paralimpiadi Bertagnoli Super G d'Argento sci altra medaglia dopo il bronzo in discese domani super combinata questa è la prima pagina del Corriere dello Sport Stadio che in alto titola sempre con noi un gol di Victor Hugo sostituito di Astori decide la partita tutto nel segno del numero 13 come vi dicevo io poco fa chiudiamo con tutto sport che titola Sorpassone con One One finale Sorpassone Sorpassone Paolo De Paola commenta meno filosofia più concretezza sempre in relazione a questa diatriba tra il bel gioco e il risultato Di Bala stende l'Udinese con una splendida doppietta e Spalletti ferma Sarri la Juve supera il Napoli balza al primo posto mercoledì il recupero del match con l'Atalanta rinviato per Neve il vantaggio dei bianconeri può salire a quattro punti in basso Toro plus Valenze e attivi ecco perché Cairo ora potrebbe vendere lo sviluppo dei bilanci preannuncia il completo ripianamento delle perdite l'eventuale cessione del club diventerebbe un grande affare poi ancora Milan Gattuso urla con il primo gol di Andresilva Genova K.O. il 94esimo Hooligans dalla Francia alla Premier ad Ascoli riecco la paura Lilla e West Ham violenza e tensioni agguato nelle marche Basket Fiat Torino travolta da Venezia basta feste l'Auxilium paga la Sbornia per la Coppa Italia diciamo ha avuto il tempo di vincere contro la Betal prima di però ha incontrato Venezia che in questo momento è una delle squadre più in forma sicuramente del campionato quindi insomma ci può stare che perdi contro Venezia questa è anche la prima pagina di Tutto Sport dunque per il momento ci fermiamo qui torneremo tra non molto per continuare a leggere le prime pagine quotidiane nazionali perché c'è sempre la politica che tiene banco sapete con questa Costituzione del Governo ma se ne parlerà a fine marzo e non pensate che si farà domani perché prima ci deve essere l'elezione dei Presidenti di Camera e Senato e sembra che comincia a trovarsi un accordo tra Lega e Movimento 5 Stelle almeno per queste nomine ma ne parliamo tra poco qui al Calabrone del Mattino questo è il Calabrone del Mattino leggiamo la prima pagina del Corriere della Sera come dicevo prima tiene banco naturalmente la questione politica tocca ad altri virgola opposizione oggi la direzione naturalmente parliamo del Partito Democratico questo è il titolo più importante del Corriere della Sera almeno quello che attrae l'attenzione in prima pagina intervista al leader Dem cioè Matteo Renzi lascio deciderà l'Assemblea ma con gli estremisti gli estremisti mai con gli estremisti scusate Renzi ho visto la piageria e la viltà arriverà la rivincita resto nel PD quindi diciamo che Matteo Renzi fa un passo indietro come aveva già annunciato rimanendo comunque all'interno del Partito Democratico e attendendo naturalmente momenti migliori l'intervista di Aldo Cazzullo vi leggo l'attacco il mio ciclo alla guida del PD si è chiuso lascio sul mio successore deciderà l'Assemblea no a governi istituzionali nessuna collaborazione possibile con i 5 Stelle o con le destre così Matteo Renzi al Corriere della Sera a poche ore dalla direzione del partito occorre ripartire da zero dall'opposizione tocca ad altri ho visto piageria e viltà arriverà la rivincita non faccio nuovi partiti resto nel PD Democratico Renzi non salirà al Quirinale anche questo di non andare al Quirinale con il Partito Democratico è un segnale molto forte soprattutto dice e mette chiarezza sulla questione che nei giorni scorsi si era sollevata cioè quella che lui avrebbe potuto costituire un nuovo partito si parlava di questo incammino che è anche un sito internet è anche uno slogan che ha appoggiato un po' la sua campagna elettorale e si è detto più volte soprattutto lo diceva lo sosteneva nemmeno tanto velatamente il direttore dell'Espresso Marco Damilano che diceva appunto è probabile che crei un nuovo partito proprio questo incammino lui con questa intervista almeno al momento ha fatto chiarezza e ha detto che non costituirà un nuovo partito rimarrà nel PD ma non salirà al Quirinale per la consultazione della composizione del nuovo governo l'ultima volta che ci salì vi ricordate quello streaming con Beppe Grillo che oggi a riguardarlo veramente fa venire la pelle d'oca visto per come sono andate le cose andiamo avanti l'editoriale di Massimo Gaggi usa Europa i pericoli dei dazi di Trump c'è un'analisi su questa vicenda poi ancora a centropagina la nuova Cina passa la riforma potere illimitato come sapete Xi ha proposto questa modifica la costituzione che è stata accettata quindi Xi resterà a vita presidente della Cina l'Assemblea Nazionale del Popolo il Parlamento cinese ha abolito il vincolo del doppio mandato per il presidente aprendo la strada per un incarico a tempo indefinito per il leader Xi no è definito il tempo perché tutti quella fine facciamo fortunatamente quindi fino a quando sarà in vita Xi sarà presidente ma poi insomma si infermerà naturalmente noi gli italiani così difendiamo la diga di Mosul il reportage di Lorenzo Cremonese poi di Spalla sul Corriere della Sera l'opinione perché io dico che è meglio tornare al voto di Ernesto Galli della Loggia Unione Europea il sorpasso dei sovranisti la destra seconda forza di Federico Fubini e poi c'è il data room di Milena Gabanelli calano i reati ma più armi ci sono e poi per chiudere la prima pagina del Corriere della Sera c'è anche la rubrica che viene pubblicata soltanto il lunedì mattina in prima pagina letti da rifare di Alessandro D'Avenia la formula dell'acqua questo è il titolo noi ci fermiamo un attimo torniamo tra poco continueremo a leggere altre prime pagine come la Repubblica è la stampa ma ci sono altri quotidiani da leggere questa mattina perché naturalmente lo sport l'ha fatta da patrona e ci sono da commentare anche i risultati di Basca insomma ne parliamo tra pochissimo qui in diretta su Radio Doc rieccoci qui al calabrone del mattino io volei dedicare come ho fatto prima io adesso non so se riesco a trovarlo vediamo se riesco a trovare sì 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 bravi 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 Condello bravo ce l'ho qua di fronte anzi mi fai un regalo vieni oggi pomeriggio in trasmissione insieme a David Paunovic mezz'oretta così lo so vieni mezz'oretta così sì ok grazie forse un quarto d'ora un saluto un saluto un saluto così veloce bravi 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 salvezza conquistata senza passare dai playoff questo sì che l'ho appena l'ho appena il play out sì ho appena postato qualcosa sulla mia profilo personale di ringraziamento naturalmente per questa bellissima avventura alla società perché per me poi alla fine di tutto va ricercata il successo va ricercato l'ottenimento di questo risultato anche principalmente sulla società perché poi è vero sì l'ho scritto Peppe Condello è uno dei coach che è più invidiato di tutti no? dalla Costa d'Orlando tutte le società anche di Serie B ma non soltanto fidatevi vorrebbero Peppe Condello ma è stato scelto dalla società è stato mantenuto è stato sostenuto dalla società già il quinto anno se non mi sbaglio ha firmato un triennale cioè proprio ragazzi qui insomma si pensa alla grande quindi non è che voglio dire insomma è anche merito di questa società che ha costruito la sua formazione la sua competenza partendo dalle minors cioè partendo proprio dalla Serie D dalla Serie C cioè facendo tanti anni di Serie C lì io mi ricordo e l'ho scritto che all'inizio quando nacque questo progetto cinque anni fa si dissero due cose fondamentali e non erano parole gettate lì tanto per caso si disse prima cosa noi vogliamo costruire una società che riesca ad affrontare dei campionati sempre più importanti organizzandoci con le esperienze creare uno staff che ci consente di poter affrontare questo era il primo obiettivo il secondo obiettivo era basket per i bambini cioè il secondo obiettivo era portiamo avanti questo progetto ecco tutte e due sono due risultati due obiettivi raggiunti a questo naturalmente si aggiunge poi la ciliegina sulla torta che è questa rivelazione perché è innegabile con chiunque parlate vi diranno chi gioca in Serie B sicuramente la sorpresa di questa stagione è decisamente la costa d'Orlando Basket nessuno si aspettava all'inizio stagione un risultato del genere perché lo ripeto non è denigrante dire guardate che la costa d'Orlando ha un budget paragonabile alle ultime due in classifica perché è arrivata poi ottava è ottava in questo momento è anzi un fattore in più come dire alla volta non serve spendere tanto bisogna spenderlo bene e soprattutto avere gente come Peppe Condello che oltre ad essere il coach è anche il direttore sportivo bene caffè pagato grazie Condello bravi 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 noi adesso facciamo una pausa con il GR pure più avanti poi torniamo leggeremo la prima pagina della Gazzetta del Sud poi anche la Repubblica la stampa insomma tante tante notizie 70 anni praticamente con questa canzone le Spice Girls Viva Forever ve lo ricordate era il 1998 e allora andiamo dopo la pausa a leggere la prima pagina della Gazzetta del Sud il titolo principale è legato alla cronaca Messina falciati due pedoni in coma notaio 41enne arrestato il pirata della strada ubriaco e drogato domani sul dramma sul Corso Cavour automobilista Montenegrino in fuga fermato dalla polizia vi leggo l'attacco del pezzo drammatico incidente ieri mattina sul Corso Cavour davanti al Palazzo dei Leoni intorno alle 11.30 una Peugeot ha travolto due messinesi che attraversavano sulle strisce pedonali e ha tirato dritto senza prestare soccorso i feriti sono in gravissime condizioni ad avere la peggio un notaio messinese di 41 anni ricoverato in coma farmacologico nel reparto di terapia intensiva del Policlinico preoccupano anche alcune lesioni celebrali giudicata guaribile in 30 giorni invece una 37enne che era insieme a lui sul Corso Cavour il pirata della strada è stato bloccato da un poliziotto libero dal servizio che con la sua auto ha inseguito il fuggitivo e dalle volanti rinchiuso in carcere un 48enne Montenegrino risultato positivo al drug test e all'alcol test l'uomo di origini slave che vive da tempo in riva allo stretto senza fissa dimora era la guida dell'utilitario di proprietà di un parente anche se sprovvisto di patente la polizia l'ho affermato in via della Zecca al termine di una folle corsa deve rispondere di lesioni gravissime omissioni di soccorso resistenza e lesioni a pubblico ufficiale veramente incredibile di spalla invece per quanto riguarda la politica Salvini e Di Maio duello a distanza tra aspiranti premier il leghista niente inciuci il pentastellato confronti con tutti un paese senza maggioranza in alto amministrative in Sicilia Messina tutto entro il 20 marzo le ipotesi in campo candidati sindaco giorni cruciali partiti e schieramenti alla conquista di Palazzo Zanca ma si vota anche a Catania Ragusa Siracusa e Trapani Messina è morto l'ingegner Nino Galatà ex dirigente dell'Acquedotto poi altri titoli a centropagina sulla Gazzetta del Sud la guerra dei Dazi Trump contro tutti commercio monito degli Stati Uniti all'Unione Europea giù le tasse sui nostri prodotti o vi stanghiamo sulle auto Donald Trump metti i tazzi tu metti i tazzi lo slogan del tycoon cioè di Donald Trump keep America great e Pechino non gradisce cioè riportiamo l'America grande questo è il suo motto poi un richiamo all'articolo di pagina 4 il chiarimento del futuro oggi si riunisce alla direzione del Partito Democratico poi in basso sempre sulla Gazzetta del Sud Cina abolito il limite ai mandati presidenziali la legge di Xi modificata la Costituzione meteo pioggia al sud temperature in diminuzione ma non in Sicilia dopo il weekend con forti rovesci temporali alla centro nord e caldo primaverile al sud sono previste nuove allerta meteo nella settentrione e un calo delle temperature nel meridione meno che in Sicilia con l'arrivo di probabili piogge previsti venti forti occidentali con raffiche fino a burrasca forte su Puglia Basilicata Calabria e Sicilia per lo sport sorpasso Juventus in Napoli frena il Milan fa festa al 95esimo tante emozioni a Firenze il Crotone trotta e vince di bala trascine bianconeri con l'Udinese pari dei partenopei con l'Inter poi di spalla per la nostra provincia Taormina San Domenico futuro incerto per i tanti dipendenti poi San Filippo del Mela inceneritore la partita rimane ancora aperta Milazzo Sfilucia al sindaco resa dei conti tra i vertici di Forza Italia poi Patti Borse di Studio Pisani Caccia il Comune trova i fondi questa la prima pagina della Gazzetta del Sud tra non molto leggeremo anche La Repubblica e La Stampa intanto ci fermiamo un attimo torniamo tra pochissimo questo è il Calabrone del Mattino leggiamo adesso la prima pagina della Repubblica via Renzi il PD cambia faccia dopo quasi 1550 giorni lascia al reggente Martina capigruppo e presidente i nodi da sciogliere Salvini scusate una camera va alla Lega gelo di Forza Italia prove di dialogo con il Movimento 5 Stelle sulla legge elettorale l'editoriale di Ezio Mauro l'evidenza di una vittoria mutilata e poi ancora nord e sud la lontananza che cresce di Ilvio Diamanti l'immagine a centro pagina un po' la foto che stanno riprendendo tutti i quotidiani quella di Xi che è il nuovo imperatore la Cina sarà sua a vita il plebiscito dell'assemblea poi l'analisi Dazi e invidia Trump sempre subalterno a Pechino di spalla poi ma non sono misure di sinistra di Ferdinando Giuliano Giuliano poi ancora la chiesa capovolta da Francesco di Alberto Melloni Papa Francesco naturalmente poi così l'Europa tasserà i big della rete di Alberto Dagenio poi la mostra vista da Natalia come era bella l'arte italiana nell'ora più buia a Milano 600 opere raccontano le avanguardie del Novecento e lo scomodo legame con il fascismo in alto poi sul Repubblica sanità vaccini da oggi sanzioni fuori chi non è in regola calcio la Juve Super in Napoli Firenze ricorda Astori prima pagina della stampa di Torino Berlusconi al PD dovete sostenere il nuovo governo tutti sul PD che ha perso però parla il presidente di Forza Italia mai un partito unico con la Lega poi ancora Alessandro De Nicola all'economia ora serve più coraggio e poi i populisti Le Penna e Loggia Salvini lui ha vinto la leader cambianome al Front National si chiama Uniti per Comandare bello un nome proprio originale Uniti per Comandare con testimone al Salar Rovazzi probabilmente vedremo nella Cecenia ostaggio di Putin ridotta a stato vassallo il cremelino tenta il supermissile e una a una settimana dal voto e c'è diciamo un'immagine con le bandiere che raffigurano l'immagine di Putin donne sfilano con i ritratti di Putin nel centro di Grosny in Cecenia poi di spalla lo sport con l'Inter finisce 0-0 crisi Napoli ci ferma a San Siro Juve in vetta il calcio antico nel ricordo di Davide Astori di Paolo Brusotto sempre sulla stampa e poi in basso le inchieste muratore magazziniere contadino i lavori pericolosi Marco Mendoni sempre sulla prima pagina della stampa poi in alto anche le storie con i carabinieri nel libro dei giusti e poi in Mongolfiera sul Monferrato di Marina Maffei oggi al Quirinare Mattarena incorona i giovani Alfieri e poi insomma niente questa è la prima pagina della stampa di Torino si chiude così la lettura dei quotidiani principali nazionali noi torniamo tra pochissimo perché vi dobbiamo dare tante altre notizie tra poco sempre in diretta su Radio Doc Allora c'è una notizia che riguarda la politica no la politica non proprio diciamo che riguarda Luigi Di Maio perché non c'è ancora un governo però c'è la First Lady si è scoperto chi è la compagna perché tutti siamo un po' chiesti ma come può si un ragazzotto così carino sicuramente importante ormai no? cioè al centro della politica italiana ormai da qualche settimana ma lo era anche prima è colui che viene designato come possibile premier o comunque è sicuramente la punta del Movimento 5 Stelle che ha avuto un risultato incredibile a queste ultime elezioni nazionali e chi è la compagna dunque la fidanzata di Luigi Di Maio è siciliana è siciliana eh sì è siciliana precisamente di Alcamo sembra si tratti di Giovanna Melodia è un avvocato civilista dal 2016 è consigliere comunale di Alcamo nel Trapanese grazie a 745 voti conquistati alle amministrative la notizia che viene riportata da Repubblica della nuova liaison era da diverse settimane sulla bocca degli attivisti in realtà ed è stata nei fatti ufficializzati in questi giorni dal diffondersi di selfie e foto dei turisti Di Maio e Melodia sono ritratti mentre passeggiano a Castellammare del Golfo curiosità il paese di origine di Sergio Mattarella che potrebbe dare a Di Maio l'incarico è di Castellammare del Golfo sapete dove è Castellammare è un posto meraviglioso bellissimo che ha questo panorama diciamo sul lungomare meraviglioso un posto fantastico si trova tra Palermo e Trapani il capo politico del Movimento 5 Stelle si è preso un weekend di relax tornando in Sicilia accanto a Giovanna spostandosi poi insieme fra Castellammare del Golfo e la zona sud del Trapanese Ivi incluse lo splendido scenario delle saline al tramonto tra Marsala e Montia la coppia presidenziale chissà questo è un dubbio che mette la Repubblica rivelano alcune fonti avrebbe anche affittato una villetta nell'area di Fraginesi dove le campagne degradano le campagne scusate degradano verso il mare di Scopello quindi un bel posto sicuramente Di Maio e Giovanna Melodia si sono conosciuti nella scorsa estate durante il tour per le regionali che aveva visto protagonisti Di Maio Alessandro Di Battista e Giancarlo Cancelleri proprio nel tour quando l'abbiamo incontrato anche noi a Castellumberto lo abbiamo intervistato insieme a Cancelleri una relazione vera e propria sarebbe scattata solo qualche settimana dopo complice la crisi fra il vice presidente della Camera e l'ex compagna Silvia Virgulti che si occupa di comunicazione Melodia che ha 36 anni e dunque tre in più del candidato premier e invece separata dal 2015 due fra l'altro se non l'ho visto in Sicilia durante una visita a Lampo di fine gennaio che si era tinta di giallo si parlò c'è un errore qui si parlò in quell'occasione di un summit fra i big grillini per revisionare le liste delle parlamentarie e fare fuori alcune candidature sgradite in realtà Gigino era solo tornato nell'isola dicono i fedelissimi per incontrare Giovanna ad Alcamo l'amore poi vedete Gigino è una persona normale qua tutti che lo dipingono è normale è un ragazzotto che è stato proiettato in questa dimensione sicuramente incredibile pazzesca grandissima per il risultato elettorale che hanno ottenuto quindi l'amore trionfa sempre bisogna dire e poi le siciliane sono siciliane anche Di Maio c'è cascato hai capito il nostro Gigino Di Maio si è fidanzato con Giovanna Melodia avvocato di Alcamo e consigliere comunale si dice non è che è sicuro è certo che tu perché passeggi a Castellammare del Golfo con una di Alcamo hai capito il motivo ci sarà è l'amore trionfa come trionfa anche la musica su Radio Doc e anche all'interno del Calabrone del Mattino staremo insieme ancora per una ventina di minuti sempre qui da lunedì al sabato dalle 9 alle 11 vi anticiperò nel prossimo collegamento che saranno i prossimi ospiti della settimana bella bella veramente questa canzone mi piace tanto Caparezza si riconferma uno dei migliori autori e soprattutto musicisti italiani per ora in circolazione io vi ricordo l'appuntamento di questo pomeriggio perché sarà ospite della trasmissione Sesto Uomo qui in carne e ossa David Paunovic che ieri è stato capace di realizzare 29 punti 29 punti un risultato pazzesco di David Paunovic una prestazione sicuramente molto molto importante peraltro con percentuali molto alte insomma una gara non voglio dire insomma che è stata una vittoria di squadra sicuramente anche Roberto Marinello autore dei 20 punti però Paunovic ha decisamente sbaragliato tutti con questa sua prestazione veramente molto molto interessante si riprende anche uno dei giocatori che probabilmente un po' aveva lasciato a desiderare diciamo così in queste ultime giornate il suo apporto invece è stato determinante nella gara vinta dalla Iritec Costa d'Orlando a Venafro vi leggo alcune sue statistiche ha tirato con il 13 su 15 da due punti 13 su 15 con l'87% da due e addirittura ha messo anche una tripla sui due tentativi da tre punti quindi David Paunovic è veramente un grande protagonista di questa gara come Roberto Marinello realizzatore di 24 punti con 28 di valutazione finale il miglior dato della squadra di Peppe Condello come valutazione ha tirato 6 su 8 da due punti con il 75% e 3 su 7 da tre punti con il 43% insomma veramente una splendida prestazione di questi due giocatori in doppia cifra anche Jacopo Pozzi con 10 punti realizzati e 8 rimbalzi presi miglior rimbalzista della squadra di Peppe Condello insomma veramente una gran bella partita deficitare sicuramente l'apporto di Andrea Sorrentino che ha giocato però soltanto 15 minuti come soltanto 6 minuti ha giocato anche Alessandro Tabbi lasciando più naturalmente in campo Paunovic veramente in grande serata di spolvero con i suoi 34 minuti e 29 punti realizzati insomma veramente una gran vittoria mentre parleremo con siamo in attesa di conferma però insomma dovremmo avere al telefono coach Gennaro Di Carlo perché diciamo che è al centro naturalmente delle critiche in questo momento soprattutto sui social dei tifosi non so se vi è capitato già di vedere i commenti postati sulla pagina dell'Orlandina Basket sulle dichiarazioni di Carlo sono commenti molto forti della stragrande maggioranza dei tifosi che vorrebbero le sue dimissioni ma è un discorso un po' più complicato perché in effetti lo abbiamo ripetuto più volte all'interno di Sesto Uomo cioè non può essere che un allenatore che tanto bene ha fatto lo scorso anno all'improvviso diventi un brocco cioè la solita teoria certo se si vuole dare un segnale per dare uno scossone va bene però insomma non ce la si può prendere con un allenatore che invece lo scorso anno soltanto lo scorso anno ha fatto sognare un'intera comunità addirittura portando la squadra di Capodorlando ai playoff e vincendo addirittura una gara contro Milano a Milano quindi mi sembra un po' riduttivo prendersela con il coach però ripeto quello che probabilmente i tifosi chiedono è un segnale un segnale da parte della società visto che lui non intende di mettersi dopo 16 sconfitte consecutive questo è il dato che un po' preoccupa no? 16 sconfitte consecutive tra Coppa e Campionato 10 in Campionato dopo 10 partite perse consecutivamente onestamente un segnale ci vuole cioè non lo so però mi sembra un po' logico no? io penso che in qualsiasi società dopo 10 sconfitte in Campionato 16 in totale consecutive qualche domanda però è anche vero l'abbiamo detto più volte come stavo dicendo prima che il coach di Carlo probabilmente ha anche dovuto gestire una squadra probabilmente costruita male quindi anche per lui le difficoltà sono aumentate non dimentichiamo sempre che il coach di Carlo ha la sua prima esperienza in una panchina di Serie A era assistant coach di Griccioli quando è subentrato due anni e mezzo fa l'anno scorso ha fatto quel gran campionato dopo aver salvato la squadra l'anno precedente e quest'anno sta avendo più difficoltà ma non è tutto da secondo me buttare sulle spalle di Gennaro Di Carlo per quanto qualche errore l'avrà commesso anche lui tutto sta da dover capire dove veramente si è sbagliato cercare di porre il rimedio perché adesso il problema la domanda principale è questa se non si vince nemmeno contro una squadra come Pesaro che l'abbiamo vista ieri che squadra è l'abbiamo vista anche qua in casa l'unica speranza è che con la possibilità di utilizzare Knox probabilmente qualcosa possa cambiare perché comunque una rotazione in più un centro un centro vero in più che se ne dica insomma non può essere il centro Wojciechowski dell'Orlanina Basket titolare cioè qualcosa bisogna fare quindi il rientro è la possibilità di poter utilizzare Cox già dalla prossima partita in casa contro Sassari peraltro nemmeno molto semplice come gara potrebbe dare un segnale di quello che potrebbe succedere ricordiamo Pesaro ha vinto 5 partite in tutta la stagione come ha fatto anche d'altronde l'Orlandina Basket con l'attenuante da parte della squadra di Capodorlando che ha anche giocato le coppe che sicuramente ha influito molto sull'andamento del campionato adesso le coppe non ci sono più sembra difficile che una squadra come Pesaro possa continuare a vincere sinceramente lo dico anche per quanto ho visto ieri si hanno vinto però abbiamo visto che squadra era ha ragione di Carlo quando dice abbiamo fatto tutto noi la si era vinta e poi le si è volute perdere cioè nel senso si è fatto un Karagiri impressionante nell'ultimo quarto soltanto 8 punti realizzati anche l'ultimo possesso un lay up semplicissimo da poter insomma questo e tanti altri sono gli argomenti che tratteremo questo pomeriggio vi ricordo da non perdere dalle 15 alle 16 in diretta su Radio Doc intanto ci fermiamo un attimo torniamo tra poco per i saluti finali allora volevo chiudere con una notizia appena giunta una notizia insomma di carattere generale non so quanti di voi ricordano Giuseppe Soffiantini ve lo ricordate quell'imprenditore che venne sequestrato nel 1997 tenuto per ben 237 giorni io mi ricordo quella vicenda anche perché già facevo questo mestiere già da parecchio tempo e mi ricordo anche l'immagine di quando Enrico Mantana ricevette la lettera dei rapitori con un lembo d'orecchio di Soffiantini ve lo ricordate perché vi faccio questa memoria vi ricordo questa cosa perché purtroppo è morto oggi proprio questo imprenditore bresciano Giuseppe Soffiantini all'età di 83 anni che poi la vicenda del suo sequestro ebbe degli risvolti veramente pazzeschi perché i figli i tre figli maschi decisero di pagare il riscatto ai rapitori 5 miliardi delle vecchie lire e mi ricordo anche l'appello che fecero era chiaro noi siamo stati corretti abbiamo pagato il riscatto adesso dovete essere corretti anche voi liberatelo e così fu venne liberato dopo 237 giorni di prigionia Giuseppe Soffiantini ma a quel rapimento fu anche indagato arrestato e condannato a 4 anni di carcere un generale dei carabinieri che chiese ad uno dei figli di Soffiantini un miliardo di lire per così con la scusa di accelerare ci penso io faccio tutto e dammi un miliardo che lo faccio liberare io si beccò una bella denuncia le prove lo condannarono e venne addirittura condannato a 4 anni di reclusione per truffa insomma anche per estorsione in pratica però venne liberato Soffiantini è morto proprio oggi a 83 anni fu una storia che colpì l'Italia è una di quelle storie come oggi per esempio ieri ricorreva il 40esimo anniversario della morte di Aldo Moro del sequestro di Aldo Moro anche quella fu me lo ricordo io ero bambino ma mi ricordo che dovetti rinunciare io l'immagine che ho è che stavo guardando Remy io stavo guardando Remy ero lì in cucina mi ricordo piccolino avevo 8 anni guardavo Remy a quei tempi c'era questo Remy che ci vuoi e interruppero le trasmissioni per un'edizione straordinaria del telegiornale mi ricordo Paolo Fraiese notissimo giornalista ha deceduto qualche anno fa che interruppe proprio le trasmissioni per dare questa notizia è l'immagine che ho di un bambino che viene privato della cosa che amava seguire cioè di Remy e quindi ti è rimasta ancora più impressa quell'immagine di quella notizia perché interruppero le trasmissioni proprio per dare quella notizia io guardavo a mia madre e mi dice mamma perché hanno interrotto e lei zitta fammi sentire fammi sentire e così appresi anche io quella notizia a quell'età un po' come succede io nei momenti più delicati dei fatti più importanti della nostra storia che abbiamo vissuto in prima persona c'è sempre qualcosa che vi collega quando uccisero per esempio Borsellino io mi ricordo dove ero e come ha presi la notizia la stessa cosa quando fu per Falcone quando fu per Della Chiesa mi ricordo benissimo dove ero e come ho appreso la notizia l'11 settembre anche in quel caso stavo guardando una cosa che mi piaceva è stata interrotta mi ricordo da un'edizione straordinaria di Mentana peraltro che giustamente davano questa notizia quindi insomma ogni avvenimento storico che abbiamo versuto in prima persona perché della nostra generazione è collegato a un preciso istante a un qualcosa che stavamo facendo guardando ascoltando e secondo me è ricollegato tutto a questo perché ancora oggi quando mi capita di vedere una puntata di una serie che a me piace tanto e che in quel momento era stata interrotta per dare la notizia mi ricorda capito che collegamenti strani che fa il mio cervello c'è la serie mi ricorda l'avvenimento disastroso vabbè succede è come le canzoni le canzoni vi ricordano momenti speciali a proposito di canzoni io adesso vi lascio vi saluto vi cedo i microfoni ai bravissimi Turuzzo e Terry Tripoli per detto tra noi noi ci sentiamo domani mattina vi avevo già promesso che avrei anticipato l'ospite di questa settimana mercoledì per esempio avremo Rossana Franzone da Milazzo che ci parlerà qua in studio l'avremo in diretta con noi in carne ed ossa che ci parlerà di questo progetto bellissimo della nascita di un sito internet realizzato con una comunità comunità alloggio quindi veramente un evento pazzesco non è mai successo in Italia quindi noi ve lo presenteremo mercoledì mattina qui con Rossana Franzone quindi grazie per essere stati con noi ci sentiamo domani mattina sempre dalle 9 alle 11 il calabrone del mattino grazie a tutti